No, eccoci qui. Siamo in diretta con Lorenz, Museo Francesco Gonzaga di Mantua, concorso internazionale, Roberto Sparaci, questo personaggio qui, e Angela Balsamo che vince il premio che consiste in questa intervista, dove l'artista ci racconta la sua arte. Prego! Bene, sono Angela Balsamo, ringrazio tantissimo Roberto e lo staff L Arte TV per avermi dato questa grande possibilità e aver l'onore di partecipare a questo evento. Io sono un'artista, dipingo su cristallo a rovescio, dipingo un po' di tutto, paesaggi, natura, morte e fiori, e dedico un fiore a tutti voi, grazie. E queste sono le opere che praticamente l'artista dipinge a rovescio su Petro. Complimenti per la tua arte, per il tuo lavoro e in bocca al lupo per un futuro proficuo. Grazie a te.